finora le elezioni per il Parlamento europeo sono state vissute da tutti noi come eventualmente un test per il governo nazionale per misurare i rapporti di forza tra i partiti come è logico che avvenga ora però la data si avvicina ricordiamo si svolgeranno dal 6 al 9 giugno e noi riteniamo utile che tutti noi si sia meglio informati sulla loro reale valenza su quanto sia importante il voto che serve a scegliere lo ricordiamo gli europarlamentari di strasburgo per questo abbiamo fatto una scelta precisa diciamo un poco coordinati da quel movimento da quella gioventù federalista europea che da sempre ci illumina nel percorso verso l'Europa beh arriviamo oggi ad ospitare la dottoressa sofia viviani lei lavora all'ufficio di presidenza del Parlamento europeo di bruxelles conosce bene quei meccanismi è responsabile dell'ufficio sviluppo sezioni e territorio ed è membro appunto della direzione nazionale di gioventù gioventù federalista europea parlerà probabilmente ma ce lo dirà lei a suo nome essendo stata comunque autorizzata parlo ed è sicuramente una testimonianza molto importante che con piacere ospitiamo subito dopo la sigla come sempre benvenuta dunque la dottoressa sofia viviani diciamo a sofia e chiudiamo lì il cerchio senti va bene perfetto buona giornata dunque buongiorno a tutti buongiorno claudio io ti ho presentato come meglio ho potuto anche detto che parli come titolata di te stessa ma a conoscenza delle problematiche delle tematiche dato che lavori lo ripetiamo presso l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo a bruxelles quindi e sei responsabile dell'ufficio sviluppo sezioni e territorio ci piace ancora una volta ricordare che sei membro della direzione nazionale gioventù federalista europea che noi seguiamo da molti e molti anni entriamo nel merito allora sofia come si presenta l'europa a queste elezioni secondo te è la prima banalissima domanda ma è introduttiva alle altre domande che ti farò certo allora intanto grazie per avermi invitato sono molto contenta di essere qua di parlare di europa in questo periodo denso per le elezioni europee dove tantissimi stati non solo l'italia ci tengo a precisarlo non hanno ancora messo il focus sui temi europei no molto spesso come dicevi claudio in introduzione il pre delle elezioni europee si concentra sulla politica nazionale e quindi lo spazio che dovrebbe essere per le politiche europee per le dinamiche delle istituzioni europee non c'è non viene preso quindi sono molto molto contenta di parlare direzioni europee e di cercare di raggiungere più cittadini e cittadini possibili come hai detto te la mia premessa è questa appunto io lavoro presso il parlamento parlamento europeo per la presidenza non per la presidente quindi lavoro per il segretariato come funzionaria e per l'istituzione di per sé però appunto sono federalista da quando ero alle medie praticamente quindi ci tengo a presidere che sono opinioni mie personali non riflettono l'istituzione anche perché l'istituzione di per sé ha mille opinioni no essendo un parlamento l'europa come si presenta allora io personalmente non non sono mai estremista ecco nel analizzare le situazioni quando ci trovavamo prima delle elezioni europee del 2019 sembrava che l'europa dovesse morire no il giorno il giorno dopo le elezioni perché la lega mi ricordo che era estremamente euroscettica al tempo adesso un po' meno però era estremamente euroscettica ha preso più del 30 per cento quindi mi ricordo quelle quei momenti lì quell'anno lì quei mesi lì come l'inizio della fine no e poi la fine non è stato così poi alla fine non è stato così quindi anche questa volta ci troviamo in Europa in difficoltà ma è una difficoltà che non deriva da eventi precisi ci sono sicuramente degli elementi gravi come le due guerre che stiamo insomma vedendo in Medio Oriente e in Ucraina come una recessione che si avvicina insomma come cambiamento climatico che sembra che non riusciamo insomma essere abbastanza di impatto per fermarlo è vero sono difficoltà che sono fattuali però la vera difficoltà è la base sono le radici cioè perché siamo così in difficoltà e perché siamo così in difficoltà è la debolezza istituzionale quindi sono una difficoltà quasi strutturale direi noi la intendiamo come difficoltà strutturale cioè che qualsiasi crisi ci saranno sempre crisi perché il mondo questo è non riusciamo a reagire in modo efficace quindi l'Europa che abbiamo adesso è in crisi sicuramente ma è una crisi satura c'è una crisi che conosciamo che già spinelli diceva negli anni 50 è sempre la stessa crisi le cause sono cambiate un po gli elementi scatenanti sono un po cambiati ma la crisi quella è l'hai toccato il nervo scoperto l'hai subito toccato hai fatto bene e vedi che noi come banner abbiamo addirittura titolato non verso le elezioni ma verso l'unione europea sperando che così avvenga senti ti provoco subito su ciò che ha detto Mario Draghi l'ex presidente del consiglio e della banca centrale europea è stato un suo manifesto è stato subito chiamato quasi elettorale si vedrà però ha dato una sferzata all'Europa dicendo serve un cambiamento radicale ecco cosa serve sotto questo profilo forse Draghi non sbaglia dicendo che serve un cambiamento radicale ma per andare verso che cosa Sofia ma io sono assolutamente d'accordo con Mario Draghi anzi lui e sono anni che porta avanti la battaglia quindi mi ha fatto piacere la sua dichiarazione forte no corrente col suo percorso radicale non vuol dire radicale nel senso storico tradizionale politico cioè di un'ideologia radicale radicale vuol dire finalmente cambiare le istituzioni e cambiare istituzioni si parla di rivoluzione ma si parla di rivoluzione istituzionale che è molto diverso da una rivoluzione tradizionale il cambiamento radicale è cambiare i processi decisionali all'interno delle elezioni cioè finalmente riuscire a dare gli strumenti all'Unione Europea come istituzione di essere una istituzione forte cioè forte non vuol dire avere la voce più grossa non vuol dire essere in grado di risolvere no e di rispondere alle necessità dei cittadini che sono sempre più pressanti e io mi ricordo per esempio questa settimana abbiamo avuto l'ultima plenaria del mandato a strasburgo no eh l'ultima votazione diciamo a strasburgo e c'è stato l'ultimo discorso di di Giffen Rostad ex primo ministro del belgio e federalista insomma da tutta la vita federalista europeo ha fatto l'ultimo discorso in aula perché non 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 si candiderà più le prossime elezioni e lui ha detto una cosa molto interessante che è simile a quella che ha detto Draghi ha detto dobbiamo smettere di pensare che il nostro dibattito sul futuro dell'Unione Europea sia politico non è politico è esistenziale ormai è diventato esistenziale quindi o uno capisce che alcuni cambiamenti vanno fatti che l'Unione Europea va rafforzata va essere va messa in grado di reagire di esistere oppure non è detto che non ci sarà più e mi ricollego anche al discorso che ha fatto ieri mattina Macron alla Sorbona che è stato un discorso di lancio delle elezioni no per il suo gruppo Renaissance un discorso di due ore lunghissimo però quello che ha detto ha citato diversi ambiti policy però quello che ha detto è l'Europa non è detto che sopravviverà a tutto l'Unione Europea non sopravviverà a tutto l'Unione Europea è in grado di morire e l'abbiamo visto più volte ci sono dei rischi che l'Unione Europea non esista più non è un dato di fatto non è caduta dal cielo è stata costruita dalle madri e dai padri fondatori no è una scelta tenerla in vita e la scelta però va fatta adesso e questo è esattamente quello che ha detto Draghi cioè ci sono alcune sfide che vanno risolte adesso vanno risolte Draghi ha anche detto che andrebbe superata l'unanimità se i 27 leggo testualmente non sono d'accordo si deve procedere comunque anche per ripristinare una certa competitività senti Sofia c'è questa proposta di riforma dei trattati che è stata approvata lo scorso 22 novembre nel Parlamento Europeo in sintesi vuoi spiegarci in che cosa consisterebbe perché quando si parla di trattati grosso modo possiamo individuare quali linee siano ma quando si parla della loro riforma soprattutto che cosa si vuole intendere secondo te sì allora il report del Parlamento Europeo è storico perché è passato appunto il 22 novembre in plenaria a Strasburgo ed è il primo passo per il procedimento dell'articolo 48 che definisce come si cambiano i trattati no quindi il primo passo si chiama trigger cioè il Parlamento chiede ufficialmente ci sono diversi diciamo spunti in questo report su come dovrebbe essere cambiato i trattati tantissimi emendamenti però diciamo le aree principali sono quelle più importanti sono il sistema di voto quindi in questo momento in Consiglio Europeo per alcune tematiche quelle più importanti è richiesto il voto all'unanimità quindi tutti i 27 stati devono essere d'accordo se anche uno non è d'accordo anche che sia Malta non si fa niente si blocca tutto quindi il report chiede di cambiare questo sistema di voto e metterlo a maggioranza qualificata quindi una maggioranza più democratica se vogliamo e questo è uno due è il processo decisionale che poi regola tutto il resto e poi ci sono altre aree che sono quelle classiche di noi federalisti che chiediamo da sempre cioè l'unione fiscale perché non è possibile che un europeo abbia un budget dell'uno per cento del gdp cioè non esiste un'istituzione che possa agire con l'uno per cento del gdp quindi l'unione fiscale la difesa quindi l'unione di difesa 27 eserciti inutili completamente diciamo in balia delle decisioni della nato non funzionano e la guerra è sempre più vicina perché lì la guerra sembra molto distante per noi ma è lì che basta chiedere ai nostri o un collega o un collega estone insomma il sentimento è molto diverso ecco quindi questo e poi principalmente è attivare il meccanismo di sussidiarità che ripetuto varie volte nei trattati ma che non è mai stato implementato ed è molto chiaro molto semplice se abbiamo un problema noi diamo la capacità la governance di risolvere questo problema a livello dell'istituzione che è più efficace nel risolverlo ed è molto semplice come concetto se parliamo di differenziata daremo la competenza al comune di residenza ma se parliamo di risolvere il cambiamento climatico parliamo di risolvere la crisi migratoria che poi non è più una crisi non è mai stata una crisi la questione migratoria risolvere i conflitti i nostri confini lì non possiamo pretendere a quella competenza sia dei governi nazionali quindi questo report è il primo passo per arrivare ad aprire una convenzione il report se poi verrà votato in consiglio perché non lo sappiamo però mettiamo caso che venga votato e che passi non sarà quello che cambierà i trattati quello semplicemente serve a dare delle motivazioni per aprire una convenzione che è un'assemblea che è stata usata solo una volta nella storia per il trattato di lisbona perché il latino 48 esiste solo dal trattato di lisbona che è una riunione di diversi attori che siano il parlamento europeo alla commissione consiglio che sono le tre istituzioni fondanti i parlamenti nazionali e altri rappresentanti diciamo questa convenzione un'assemblea che discute come cambiare i trattati anche per anni non è detto che sia una cosa assolutamente di qualche mese e poi tutti gli stati dovrebbero votare all'unanimità le conclusioni di questa convenzione e lì si cambiano i trattati questo è il procedimento legale noi però siamo ancora fermi al primo passetto certo certo comunque hai dato un escurso sintetico molto chiaro di cosa si intenderebbe come riforma dei trattati hai citato a passam la guerra che non è da citare a passam ma da sottolineare perché perché tutti noi in qualche modo abbiamo visto Sofia che l'Europa spesso è stata in impaccio rispetto alle decisioni da prendere è stato un poco a guardare lo si può ben dire non può più essere così anche perché c'è il tema lo leggo della sicurezza che è un tema che hai citato anche la nato che tutti ci coinvolge l'Europa quindi prima domanda può stare a guardare quelli che sono i conflitti e sono tantissimi nel mondo mai stati così come oggi secondo tema l'Europa riuscirà a provvedere a una propria sicurezza sotto questo profilo ma riuscirà solo se sarà lasciata agire cioè se gli stati nazionali lasceranno che l'Unione Europea faccia quello che l'Unione Europea deve fare e quello che l'Unione Europea deve fare sta proprio nelle sue radici la missione fondante la missione principale delle istituzioni europee è sempre stata la pace l'Unione Europea non è nata per un desiderio politico l'Unione Europea è nata per sopravvivenza perché dopo la seconda guerra mondiale se ci fosse stato un terzo conflitto tra Francia e Germania noi non saremo qua e questo era chiaro negli anni 50 l'Unione Europea è stata fondata all'inizio insomma con la cieca nel 52 cioè sette anni dopo il conflitto che è assurdo se ci pensiamo avevamo ancora i veterani no che sette anni prima si sparavano che poi erano nella stessa istituzione quindi l'unione l'identità dell'Unione Europea è proprio la pace ed è una missione storica non è una missione politica e basta è storica quindi sicuramente l'Unione Europea deve esporsi deve portare avanti questa missione però l'unico modo in cui lo può fare tu hai detto bene è stata a guardare è vero ma perché è stata a guardare in tante queste situazioni perché non ha la competenza di fare di più molto spesso è quello non è solo una decisione politica molto spesso è quello perché siamo a il 14esimo 15esimo più pacchetto di sanzioni contro la Russia e basta sono sanzioni che sono preventive tra le tre sanzioni quindi sono già in ritardo no perché non si può fare altro non c'è non c'è la capacità di fare altro si può fare altro solo se gli stati nazionali decidono di lasciare l'Unione Europea spazio per agire è ovvio che adesso quest'anno è l'anno delle elezioni in tutto il mondo e ci saranno anche quelle americane è ovvio che se riabbiamo di nuovo Trump come presidente degli Stati Uniti la situazione per noi si fa ancora più complessa soprattutto per la sicurezza perché Trump per quanto io non sia assolutamente politicamente affine una cosa l'ha detta giusta cioè l'Unione Europea e gli europei non possono più affidarsi agli Stati Uniti e ha ragione noi non possiamo più affidarci agli Stati Uniti abbiamo diciamo sorpassato il limite è il momento di occuparci di noi stessi e smettere di mettere il primato nazionale o queste motivazioni completamente antirazionali no sul nostro percorso l'Unione Europea con l'Ucraina Medio Oriente è diverso però con l'Ucraina e secondo me questo l'aveva detto Antonio Argenziano che era il vecchio presidente della Jeff Europe ha dimostrato l'Ucraina che l'Unione Europea non è più perché ci sono così tanti Stati che vogliono entrare non per il mercato unico per decenni è stato il mercato unico il pilastro europea no economia per decenni tanti Stati vogliono entrare per il mercato unico adesso non è più così gli Stati vogliono entrare per la questione valoriale l'Unione Europea ormai non è solo non è più mercato è un'unione di valori di democrazia e di pace non è più quindi tu stai dicendo se capisco bene Sofia sono perfettamente d'accordo che la sconfitta eventuale della Ucraina metterebbe proprio a rischio i valori europei questo va capito se non si capisce questo passaggio non si è capito niente del mondo che sta evolvendo secondo me e io mi spiego anche a dire i valori sicuramente che sono valori universali poi noi europei gli abbiamo fatti istituzioni ma sono universali cioè la sicurezza perché la commissione parla sempre di sicurezza geopolitica quando parla di Ucraina ed è vero è un dato di fatto ma è una questione esistenziale cioè io sono sempre un po stupita quando adesso io vivo a Bruxelles da qualche anno quindi non vivo più in Italia però quando quando vedo i giornali italiani no il dibattito italiano sull'Ucraina sono sempre molto stupita perché in Italia c'è un dibattito che in altri stati non c'è così tanto cioè su questa cosa dell'Ucraina c'è ancora una parte politica che è in dubbio sul sostegno dell'Ucraina in altri stati è diverso io vivo in Belgio in Belgio non c'è più questo dibattito cioè è inimmaginabile pensare che non dobbiamo sostenere l'Ucraina inimmaginabile ed è strano perché allora al metterla sul piano proprio cinico ci serve sostenere l'Ucraina ci serve per l'Ucraina è Europa ma in senso più ampio ne va del futuro della nostra istituzione e del futuro della nostra democrazia guardando agli altri non solo nostra ma anche loro ovviamente ma principalmente del continente no guardando gli altri continenti qual è un'altra istituzione che ha un livello di democrazia così avanzato e così ampio siamo noi e le democrazie sono sotto attacco in tutte le parti del mondo continuamente come diceva Michela Murgia la democrazia non ha dentro di sé l'antivirus democrazia se viene attaccata può benissimo morire e siamo noi elettori no siamo noi cittadini l'antivirus poi arriviamo ai noi elettori ma mi preme toccare il secondo grande tema che attende l'unione europea ed è il dopo green deal l'Europa ha messo in atto normative innovatrici lasciamo stare come ci siamo arrivati però è un dato di fatto con le prossime elezioni si dovrebbe misurare la capacità della classe politica eletta di mantenere fede a quanto stabilito e di cominciare a concretizzarlo io spero che chi si candida sappia questo a prescindere dalle idee politiche bisogna mettere in atto qualche cosa ecco tu che pensi al riguardo ma io spero anch'io e mi unisco a questa speranza che i neo eletti saranno in grado di avere la responsabilità di finire quello che è stato iniziato e purtroppo non sono così sicura abbiamo già visto da dalla commissione europea dalla presidente von der Leyen un bel cambio in questi ultimi mesi no di priorità politiche lei ha basato tutto il suo mandato sul green deal e adesso sta virando verso la difesa mettendolo in contraposizione che in realtà non dovrebbero essere in contraposizione no avere una politica verde e avere una difesa unica sono entrambe importanti dipenderà tutto dipenderà tutto da queste elezioni purtroppo i verdi che sono stati il gruppo politico che ha spinto di più ovviamente per il green deal secondo i sondaggi perderanno tantissimi voti sarà il gruppo politico che perderà più voti sia in percentuale che assoluto in parlamento europeo e questo impatterà tantissimo e purtroppo non è solo una questione non solo parlamento europeo ma qualsiasi parlamento non è solo una questione di responsabilità politica ma è un sistema basato sul consenso quindi se gli elettori non voteranno con la parte politica i nuovi eurodeputati non è detto che seguino insomma quel percorso e il cambiamento climatico come abbiamo detto prima è la stessa cosa cioè purtroppo per tantissimi partiti è ancora un'opinione non è un fatto e questo siamo ancora lì e non finché non accettiamo che non bisogna discutere sull'esistenza bisogna discutere su come agire e non su se agire o no ma su come agire e siamo ancora molto indietro siamo alla conclusione di questo secondo me straordinario colloquio che abbiamo avuto per la tua competenza soprattutto per la chiarezza della tua esposizione e per le idee chiare che ho condiviso in totale sono 370 milioni le persone che godono del diritto di voto per il rinnovo dell'euro parlamento usa il tuo voto e tra l'altro il claim lo slogan usato adottato da parlamento europeo per invitare tutti noi siamo 27 paesi membri a partecipare alle elezioni del 6 e 9 giugno in italia saranno l'otto e i nove sono tutte informazioni utilissime che conviene sempre dare l'ultima domanda perché un cittadino ma aggiungo anche visto che la nostra trasmissione si titola my generation abbiamo l'ardire di voler parlare ai giovani ecco perché un cittadino e un giovane dovrebbero recarsi alle elezioni europee insomma ci sono mille motivi ma mi fermerò solo su uno che è quello che sta usando il parlamento europeo nella sua campagna per le elezioni e usa il tuo voto il nostro slogan no e nelle prossime siti name verrà ampliato non so se sia già pubblicato però verrà ampliato e sarà usa il tuo voto o sarà qualcun altro usarlo per te o a decidere per te e questo è fondamentale se la parte che il voto è la base democrazia ok però se una persona un elettore a prescindere dall'età ma insomma io penso che io ho 24 anni quindi credo che la mia generazione sia estremamente politica ma non attraverso i partiti attraverso la società civile ma estremamente politica però il voto è lo strumento base e se non andiamo a votare possiamo anche far finta che la politica non ci riguardi ma come detto insomma famosissimo la politica si occuperà sempre di te anche se tu non ti occupi di politica no quindi le scelte che verranno prese comunque impatteranno la tua vita ma tu non sarai stato quello che le sceglie quindi non sarai in grado di scegliere cosa impatta e come impattano le decisioni delle istituzioni sui te è un periodo storico in cui abbiamo infiltrazioni russe cinesi e siamo in sotto attacco da qualsiasi continente perché questa è la realtà della democrazia europea non usare il tuo voto a parte essere a mio parere un gesto anche un po egoista no per le situazioni che stiamo vivendo ma soprattutto vuol dire che stai dando la capacità ad altre persone di scegliere quello che impatta sulla tua vita e questo è un peccato per te ma per tutta la comunità europea allora sofia viviani è stata con noi sono felicissimo di averti conosciuta sofia non ti perderò certo di vista ricordo che sofia lavora nell'ufficio di presidenza del parlamento europeo responsabile ufficio sviluppo sezioni e territorio e ricordo che membro della direzione nazionale gioventù federalista europea ringraziamo anche l'amico giorgio anselmi che me l'ha indicata scelta mai più azzeccata fu ti ringrazio molto sofia ci rivedremo ci rivedremo presto su questi stessi schermi grazie buon lavoro sai ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti